La questione dei dettagli di Muttare Sardos, scettibile di allenazione della Repubblicazione ai dati del Naturo Scilomato, del Presidente Rece Giannodoro Scilomato, convertito con modificazioni nella legge capitali cittadale che sbargono il traotto, chi è favorevole, presta, attenuto, chi non è favorevole, si alza, chi è serenitato. Allora, per tutti voi, il Consiglio della Repubblicazione, Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.